Cosa possiamo fare per te? Possiamo organizzare il tuo viaggio proprio come lo vuoi tu e ti assicuriamo che tornerai felice e soddisfatto. Ecco cosa succederà quando riceveremo la tua richiesta. Ti chiamiamo subito al telefono. Questo per noi è importantissimo perché ci permette di conoscerti e di capire realmente cosa stai cercando e quali sono le tue esigenze. Vuoi fare una vacanza all'insegno del totale relax dopo un anno di intenso lavoro? O sei una persona avventurosa che cerca dal viaggio esperienze di vita indimenticabili? Beh in tutti i casi come potremmo capirlo senza fare una bella chiacchierata con te? Ci mettiamo alla ricerca dell'offerta migliore. Una volta capito bene che cosa stai cercando ci mettiamo alla ricerca di ciò che desideri e sicuramente lo troveremo perché abbiamo l'esperienza e gli strumenti che ci permettono di accedere a tutte le offerte del mondo del turismo e quando diciamo tutte significa proprio tutte, qualsiasi volo, servizio o pacchetto. Ti prepariamo l'offerta. Una volta selezionati tutti i servizi ti invieremo l'offerta e insieme la rivedremo in ogni dettaglio, la modificheremo là dove non ti convince e la rielaboreremo nella sua forma definitiva. Confermiamo la tua prenotazione. Quando tutto sarà proprio come lo desideri ti chiederemo di procedere al pagamento a conto saldo a seconda di quanto manca la data della partenza e procederemo con la prenotazione del tuo viaggio. Ti mandiamo i documenti. Confermata la prenotazione ti invieremo in tempo utile tutti i documenti necessari per partire e saremo sempre a tua disposizione per aiutarti in ogni momento del tuo viaggio, prima della partenza, durante il viaggio e al tuo rientro. Una volta per prenotare un viaggio si andava in agenzia e si aspettava di poter parlare con qualcuno. Noi abbiamo semplificato le cose grazie al web, costruendo una rete di consulenti di viaggio online. Standotene comodamente a casa tua ci puoi facilmente raggiungere senza però rinunciare alla relazione diretta con una persona che ti segue dall'inizio alla fine del viaggio. Puoi andare in India e rigenerarti in un rilassante soggiorno? Stai pensando di organizzare un safari artico in Finlandia? Oppure stai pensando alla Florida, magari Miami? È come se tu avessi a disposizione un centinaio di esperti, quindi dici dove vuoi andare e prepara la valigia perché al resto ci pensiamo davvero noi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!